Prepararsi all'urto! Che cos'è la guerra acustica? È pericolosa? Forse ho rilevato qualcosa. Quattro vale. Non esistono sottomarini così. Lo so. Recuperiamo i sub, sì o no? È il richiamo del lupo. Ci ha rilevati. Allerta all'equipaggio! Dobbiamo recuperare i sub, è la missione! Prepararsi all'urto! Il livello di allerta è critico. Vi affidiamo il Poseidon. Sento ancora quel suono. Non ci pensare più. Scoprirò che cos'era. Attenti! Vi affido il comando del Titanus. Il vostro primo incarico è scortare il Poseidon prima che diventi invisibile ai radar. È in corso un attacco sulla Terra ferma. Il presidente mi ha ordinato di rispondere al fuoco. Ci hanno incastrato! È una vita che insegno ai ragazzi a rispettare le procedure. Devo neutralizzarli? Sono nostri fratelli! Non sono più fratelli, sono solo bersagli! Non abbiamo scelta. Ci siamo. Non abbiamo scelta. No waspuol. Ci sono più fratelli, sono sempre fratelli e will 닮ata qua. Ci sono tutti iبرolati. Molti? Ci sono due.